Questa cosa che cresce dentro di me l'ho combattuta per sei lunghi anni. La dottoressa Amaral stava lavorando a una cura per la sindrome da Cronum. Era l'unica in grado di sviluppare il trattamento che poteva arginare la mia malattia. Paul! Ed Jack me l'ha portata via ora. Come cazzo è possibile, Martin? Dimmi, come hanno fatto a rapirla? Paul! Non cedere alla malattia. Sono dalla tua parte. Calma, va tutto. L'hanno presa. Senza Sofia non c'è modo di trovare una cura. Abbiamo fatto il possibile, ma nella monarca ci sono forze che tramano contro di te. Per me Burke è solo la punta dell'iceberg. Qualcuno deve aver aiutato Joyce. Signore, abbiamo il portatile della dottoressa Amaral. È già pronto se vuole dare un'occhiata. Sì, vado subito. Voglio analizzare i valori di Sofia. Se ha ragione, la frattura si sta intensificando più velocemente del previsto. Tu conosci il futuro. La dottoressa no. L'arca non è ancora pronta per essere attivata, ma lei vuole convincerti a rivedere la tabella di marcia. Perché? Per indurti ad affrettare i tempi e commettere un errore? Potrebbe persino essere d'accordo con i traditori. Impossibile. E vuoi basare l'intero piano su questo? Ti scongiuro, Paul. Rimanda l'attivazione. Lasciami risolvere il problema prima che ci sfuga completamente di mano. Come pensi di procedere? Qualcuno stava cospirando contro di me. Una persona molto vicina. Martin Hatch. Sofia Amaral. Potevo fidarmi soltanto di uno di loro. Voglio che venga arrestato. Immediatamente. Signore, ho delle informazioni su Martin Hatch. Per anni avevo seguito i consigli di Martin. Cominciavo a chiedermi se non fosse stato un errore. Io mi fido di Sofia. Non mi ha mai tradito. Io continuo a non fidarmi di lei. Da come guardava la contromisura, credo l'abbia già vista e sappia come funziona. Le ricerche di Sofia mi avevano salvato la vita. Non esiste lealtà più profonda. Ok, dottoressa. È ora di aggiustare la macchina. Ho detto che ci proverò. Le prove giocavano a sfavori di Sofia. Non potevo ignorarle. Nonostante quello che c'era stato fra noi. E sapeva che non puoi andare avanti senza quel trattamento. Quindi le ha rubate. Sapeva troppo. Si era schierata contro di me. Avrebbe scatenato danni inimmaginabili. I dati di Sofia non ci hanno mai deluso. Mi fido di lei. Dobbiamo analizzare i valori e prepararci per l'attivazione del protocollo ARCA. Subito. D'accordo. Porto il computer alla sezione scientifica. No, preferisco occuparmene io. Capisco. Signore. Voglio degli uomini su Edge. Controllatelo a vista. Sì, signore. Ricevuto. Abbiamo isolato dei frame dai video di sorveglianza. Abbiamo identificato l'accomplice di Joyce. È Beth Wilder. Una nostra agente di medio livello. Lei? Cazzo, era con noi sin dall'inizio e sta aiutando Jack. Ora dov'è? Scomparsa. Ma un team di sicari la sta cercando. No, 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 no. Non possiamo ucciderla. Non ancora. Trovatela. E voglio un rapporto dettagliato. Su ogni mossa di Edge. Non fate cazzate. Beth Wilder. Era la prima volta che sentivo il suo nome. Ma era già stata lì, nel passato. Quando era iniziato tutto. È stata qui tutto il tempo. Ha lavorato contro di me dall'interno. E non è stata l'unica. E non è stata l'unica. No. Chuka. Nu. Uah. Devo parlare con Hatch. E cosa voleva ottenere, Burke? Non ne ho idea. Non so neanche cosa sia il protocollo ARCA. È una sorta di rifugio. Per proteggere alcune personalità chiave della Monarch fino a quando i tecnici non avranno trovato una soluzione. Personalità chiave? Significa che io sarei sulla lista, giusto? Non sotto il comando di Paul Serin. Lui non ha mai compreso il valore dei suoi uomini. Ormai è consumato dai suoi ideali e dalle delusioni. Hai un'idea di quale possa essere il concetto più terrificante al mondo? È l'idea di Dio. La semplice idea di un essere così potente. Uno con la facoltà di prendere e donare il controllo su ogni cosa dovrebbe essere temuto, non venerato. Eppure la gente crede in Dio. Esattamente come crede in Paul Serin. Vedi, quello che c'è in Dio che spaventa la gente non è il potere di controllo. Ma l'idea è che possa perderlo. Paul Serin è uscito di senno, Charlie. Ha scatenato una catastrofe. Ha la possibilità di rimediare, ma non vuole farlo. Ha scelto di far finire tutto. La fine del tempo. E qui entriamo in gioco noi. Non possiamo permetterci di lasciare il controllo nelle mani di un solo uomo. Ci serve un'assicurazione. Che risponde al nome di RC. È la chiave per la nostra sopravvivenza e deve restare al sicuro. Ma è impossibile finché l'unico depositario sarà Paul. È chiaro? Una volta ottenuto l'RC, io assumerò il comando e riporterò la monarca ai fastidi un tempo. Servirà una riorganizzazione, Charlie, un nuovo ordine aziendale. Che ti vedrà mio braccio destro. E sarei sulla lista? Senza alcun dubbio. Significa che devo ritornare alla monarca. Ma un sistema di quel genere può essere violato soltanto dall'interno. È buono. Ho bloccato gli accessi all'isola, ma la cabina idrica sul lato ovest ha un vecchio tunnel di servizio che passa sotto la baia. Nessuno ne sa niente. Non avrai problemi. Il tempismo è essenziale, Charlie. Farei meglio a sbrigarti. Sì. Comandante Davis. Sì, signore. Al laboratorio perimetrale. Dobbiamo procedere. Le stasi sono continue, con una frequenza ancora imprevedibile. Irregolari, ma continui. Servono dati certi. Una volta avviato il protocollo è irreversibile. Signor Serin, per situazioni simili, non esistono certezze. Non abbiamo alcun tipo di esperienza. Quanto manca? Abbiamo eseguito le simulazioni della dottoressa Amaral. Avremo bisogno di una sua conferma, ma... Dimmi soltanto quanto manca. Il campo di Joyce può collassare tra otto ore. Signor Serin, se hai intenzione di procedere, è il momento di prendere una decisione. di prendere una decisione. Ti prende, matto di giusto. Charlie. Fiora. Ehi, amico. Dove stai andando? Avevi ragione. L'avevi detto. Il tempo finirà. E il protocollo Arca... È un luogo. L'hanno costruito per proteggerci dalla frattura. L'unico problema è che... Hanno una lista. E chiunque sia rimasto fuori... Non ha speranza. Ma se riuscissimo a lasciare l'isola, potrei... Farci inserire in quella lista. Noi tre... Tutte le vie di fuga sono bloccate. Come pensi di fare? So che c'è un tunnel. D'accordo, ma se non stai dicendo la verità... Giuro su Dio che io ti... Un culo! Ne ho abbastanza. Non so perché lo stai facendo, ma nessuno mi obbliga a inserire il tuo cazzo di nome... Cosa gli hai fatto? Non è niente. Ti spiego io perché devi inserirmi in quella lista. A casa ho una moglie incinta. Ed è l'unica cosa di cui mi importi in questo momento. Perciò non provare a ostacolarmi mentre tento di proteggerla. O ti giuro... Che la prossima volta... Non riuscirai più a riprendere fiato. Dopo di te. Non riuscirai più a riprendere fiato. Non riuscirai più a riprendere hiuto. È più a riprendere fiato. buonasera mancano cinque minuti signorecci vai ora ti libererò amico mio vederti relegato qui è insopportabile è tempo che tu raggiunga gli altri che ritorni nell'infinito è stato un po' Di quanti mesi è, tua moglie? Tre mesi. Congratulazioni. Grazie. Cosa succede? Siamo sotto la bagna. Liam. Correte! Solti! No, 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 no! Indietro, state indietro! Anche a me! Tutto a posto? Sì. Sì, e tu? Sto bene. Tutti a terra! Ora! Non ti! No, 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 siamo della Monarch. Forse non mi sono spiega! Senti! Ho detto a terra! No, 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 no. Sono io che ho chiamato. Lavoro per Edge. Wincott! Sì. E lei chi è? Lei è un'esperta di Cronon. È importante. Dobbiamo riportarla subito alla Monarch. Per favore. Andate fuori dalle palle. Subito! Sì. Gipson. Ho beccato da me. Fiona. Fiona! Fiona! Stammi a sentire, ehi! Pezzo di merda, l'hai ucciso! Cazzo! Ehi! Non sapevo che l'avrebbero ammazzato. Cosa avrei dovuto fare? Sbaglio o siete stati voi alla fine? Non si tratta di te, Charlie! Che fai? Rubi una macchina! Sparisci immediatamente! No, hai bisogno di me! Ho già avuto quello che mi serviva. È un vizio che ha preso piede. Ma perché non apri gli occhi? Il mondo sta per finire! Io sto cercando di fare qualcosa! Contiamo tutti su di te! Vaffanculo! Un'infermiera, eh? Ora la vedremo. Burke, povero scemo. Lo sai, sarà un piacere uccidere tua moglie. Un'infermiera, è un piacere uccidere tua moglie. Il comandante Davis! Davis e la sua squadra. Erano in gamba. I migliori della Monarch. Paul! 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 Le mie cure sono state distrutte. Ho paura di sì. Ma lo sai che significa? Tu non lo sai di certo. Che sono un uomo morto! Ed è successo per colpa tua! Jack vuole che io mi consumi. Lui vuole solo vedermi soffrire! Fino alla fine. Joyce è anche la Wilder. La domanda che mi tormenta è... Chi li ha portati nel laboratorio di Kim? Lei è tornata. Quando tutti la credevano scomparsa, qualche minuto prima dell'esplosione. Paul! Paul! Ehi, Paul! Paul, mi stai ascoltando? Senti, ora che tu capisca chi è davvero, è che questo era il suo regalo da Dio. L'hanno costretta. Quella donna vuole solo distruggere. Quella donna vuole solo aiutarmi! Gesù! Ma... Guardati! L'uomo più geniale che conosco. Accecato da un amore folle. Paul, che cosa pensi di fare? Io mi fido di Sofia. Ti ha fatto perdere la testa. Non mi ha mai tradito. Cerca di riflettere. Se la frattura ormai è imminente, lo devo solo a lei. Non mi ha mai tradito, non mi ha mai tradito. Non mi ha mai tradito, non mi ha tradito. Dottor Holden. Che cosa succede? Il protocollo è stato avviato. Devo svegliare la mia famiglia. Temo non ci rimanga tempo. Un anestesista al pronto soccorso. Un anestesista. Dottoressa, per cui si sede. Oh, ma che tenerezza. Grazie. Vieni, 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 vieni. Grazie. Dottor Beerer è atteso in pediatria. Dottor Beerer. Liam. Ehi, amico. È un sollievo vederti qui. Stavo dicendo alla tua ragazza che eravamo tutti preoccupati per te. Emily. Dobbiamo andare. Andare? Che fretta c'è. Emily. Andiamo. Andiamo. This is 5. Fermateli! Nooo! Nooo! Emily, dammi le chiavi Dammi le chiavi No, sono andata da me Ascolta, ascolta Ti prego, ti prego Questo non sono io Non sono io Ho sempre disprezzato tutto Io sono sempre stato male Facendo questo Ma era la sola cosa che sapessi fare E quando sono tornato Non ho trovato nulla Non c'era niente che potessi fare La monarca ha visto in me un'occasione E mi ha trovato un incarico Giuro su Dio che io non Che non sopportavo di rimanere sempre da solo E così Tutti i martedì e tutti i mercoledì Io scendevo lungo la strada Perché erano le uniche due sere In cui quella barista In cui lei non era a scuola Ogni sera pensavo solo a chiederti di uscire Ma ci ho messo uno stramaledetto anno Emily Se la monarca Se loro mi hanno dato Una struttura Tu mi hai dato uno scopo L'ho fatto solo per proteggerti L'ho fatto per proteggere noi La nostra famiglia Per proteggere la nostra famiglia Ma Emily ora devi ascoltarmi Qualcosa di terribile Sta accadendo Ti spiegherò tutto per strada Ora non c'è tempo Dobbiamo andarcene subito Ti prego Lascia solo che io possa Ti prego Lascia che io ti proteggo Ancora un'ultima volta Ti prego Ti prego Questo sono io Sono io Chiaro Sì sono io Ok Dobbiamo andarcene Andiamoci subito Bene Pronto? Sono Pierce, dal laboratorio perimetrale. Signore, ho delle informazioni su Martin Hitch. Voglio che venga arrestato. Immediatamente. Grazie a tutti.